Noi a livello locale quando abbiamo governato a Pavia con Cattaneo Sindaco e io vice le regole erano chiare, i rapporti erano molto cristallini e di conseguenza siamo andati d'amore e d'accordo per tutta una legislatura. Di conseguenza quando ci sono persone serie con programmi seri e progetti seri i cittadini ti premiano. A livello nazionale la cosa sicuramente è un po' più difficile, l'importante è che ci sia il rispetto da parte di tutti all'interno della coalizione. Io continuo a essere dell'idea che nel caso specifico non posso pensare che il Presidente di Forza Italia, il Segretario di Forza Italia indichi un candidato all'interno della Lega, è come se Salvini domani si alzasse e dicesse benissimo per noi il candidato si chiama Giovanni Toti. Non lo facciamo per una questione di stile, per una questione di rispetto nei confronti anche di Giovanni Toti. Io mi metto nei panni di Luca Zaia nel momento in cui si è visto candidare a Premier da parte di Silvio Berlusconi. Insomma provocazione o proposta? Dobbiamo renderci conto, i tempi sono cambiati rispetto agli anni 90 dove c'era Berlusconi che comandava e tutto il resto che stava e rispettava gli ordini di scuderia da parte di Berlusconi. In questo momento ci sono dei leader all'interno di una coalizione, dei leader che devono essere trattati, ci deve essere il rispetto e devono essere trattati tutti allo stesso livello.